Salve amici! Oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di, Frosinone. Il treno Intercity Notte 78 9 di Trenitalia proveniente da Roma Termini è diretto a Lecce delle ore 00 e 55 e in arrivo al binario 1 ferma a, Cassino, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi, Su questo treno è disponibile il servizio, Cucette. Il treno regionale 12 11 4 di Trenitalia proveniente da Cassino è diretto a Roma Termini. Delle ore 00 e 31 e in arrivo al binario 1 ferma a, Morolo, Sgurgola, Anani-Fiuggi, Culleferro-Segni-Paliano, Labico, Zagarolo. Il treno regionale 12 10 23 di Trenitalia proveniente da Cassino delle ore 00 e 53 e in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 58 92 04 di Trenitalia proveniente da Roma Termini delle ore 00 e 10 e in arrivo al binario 1, attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno alta velocità Frecciarossa 93 04 proveniente da Napoli Centrale è diretto a Torino Porta Nuova. Delle ore 00 e 35. È in arrivo al binario 2 ferma a Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Ave, Reggio Emilia V Medio Padana, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Livelli Executive Business sono in testa al treno, su questo treno è disponibile il servizio ristorazione. Il treno regionale 12 04 5 di Trenitalia per Roma Termini delle ore 00 e 51 è in partenza dal binario 3 ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 54 89 di Trenitalia proveniente da Caserta è diretto a Roma Termini delle ore 00 e 04 è in arrivo al binario 4 ferma a Ferentino Supino, Anagni, Fiuggi, Culle Ferro Segni Paliano, Valmontone, Zagarolo. Il treno regionale 56 78 di Trenitalia proveniente da Roma Termini è diretto ai Zernie delle ore 00 e 08 è in arrivo al binario 1 ferma a Cassino, Benafro. Il treno regionale 11 34 5 di Trenitalia Culle Ferro Segni Paliano delle ore 00 e 18 è in partenza dal binario 2 ferma a Morolo, Sgurgola, Anagni, Fiuggi. Il treno regionale 68 79 di Trenitalia proveniente da Caserta è diretto a Roma Termini delle ore 00 e 43 in arrivo al binario 3 ferma a Culle Ferro Segni, Paliano, Tor Vergata, Capanelle. Grazie a tutti.